Benvenuti, riapertura oggi domenica, guardate chi c'è Sergio, guarda, ciao Sonia, qui è il gestore, guardate dove siamo, Pian dell'Alpe, Pian dell'Alpe, motoslitta, lago delle rane, big bench, big bench del parco, e si lavora, grazie a Dio, si lavora, si lavora, guardate che giornata bellissima, meritano, ciao, guardate che bello, spettacolo, ciaspole, benvenuti al rifugio, lago delle rane, posto unico dove potete venire a mangiare, dove potete venire a soggiornare, specialmente, anche perché sopra le camere, in fuoristrada del boss, e lì guarda, lì c'è Riccardo, quel signore lì, si chiama Ricchi, e vuole scappare, Italia 1, sta dicendo, Italia 1, Italia 1, Sì, vabbè, lui è un pilastro portante, di questo rifugio, qui già cominciano, si comincia, si comincia, un patio, ciao Ricchi, ciao, saluta i nostri telespettatori, ciao a tutti ragazzi, buona domenica, buona Santa Lucia, tu ti porta via, grazie Ricchi, grazie, è un vero amico, un vero amico, lavora qui, al rifugio, qui si può, hanno messo i cannoni, hanno messo per l'inverno, giustamente, per poter mangiare anche fuori, mi sa che comunque, il covid dentro, e questo è l'interno del rifugio, questo è l'interno del rifugio, sopra ci sono le camere, e qua c'è, chi c'è, chi c'è, qui c'è, qui c'è, ciao Taissia, come va? Lei è la cuoca, lei è la cuoca, che è la cuoca, qui abbiamo... Chi cazzo, spegni tutto? Guarda, non vuole, non vuole, guarda, guardate cosa sta facendo, guardate cosa... Saluta, ciao Tai, ciao, non vuole, non vuole essere... Eh, ma perché si è appena svegliata, si è appena... Guardate che brava, fa la salsiccia, oggi abbiamo tante cose buone, lui vuole fare una canna? Adesso ci facciamo anche la canna? Sto scherzando, guardate, questa è una bella cucina, poi logicamente ci sono dietro anche il frigo, bello, bello, si ricomincia a lavorare, si ricomincia a lavorare, qui abbiamo il bagnetto e qui si sale su, qua si sale su nelle camere, anzi guardate, vi faccio un favore, ve le faccio anche vedere. Due secondi, se non c'è nessuno, se non c'è nessuno, qui abbiamo questa cameretta esterna, camera rossa, questo è un bagnetto, che è da fuori, sul, apriamo il balcone, no guardate, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, qui c'è l'altra camera, rientriamo, chiudiamo, camera rossa, qui c'è il patio, la piccionaia, come la chiamo io, qui c'è la camera beige, guardate che spettacolo, che dà anche sempre fuori sul balcone, non è bello? Tre camera, una, due, tre, e questa è una camera, sono le camere di servitù, una dispensa e un altro bagno. fantastico, eh? Non scendiamo le scale, qui quando è stato ristrutturato il lago delle rane, vedete, qua, come era, è come oggi, qui abbiamo un caminetto, un altro dispensa, un caminetto e c'è Ricky che adesso gli diamo una mano, ok? Per cui tutto lo staff del lago delle rane vi saluta, venite a trovarsi, ci trovate su facebook, ci trovate su internet, su google, map, è bello, un bel rifugio, veramente veramente un bel rifugio. A presto e buona domenica a tutte e tutte, ciao ciao! 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 Ciao!